5, 4, 3, 2, 1, vai! Sinistra 3 meno e destra 4 chiude 3, 4 che chiude 3, 20, 20, sinistra 3 e destra 2 che gira e chiude, 2 che gira e chiude, 20 sinistri, gira e chiude, sinistra 3 più e destra 4 lunga e sinistra 4, 30 sinistri, sinistra 2 lunga, 2 lunga, apre 30, destra 4, 40, sinistra 5 per destra 4 e sinistra 4, bellissimi, 20 accenno destra 30, accenno sinistra 30, destra 4, quella che vedi, 4, è 4, scorri via, 100 sinistri, scimolosa dietro, no no no, va bene va bene, sinistra 5 che chiude 4, ti accompagna, 5 che chiude 4 e destra 2 per sinistra 3 e destra 3 che gira e apre, sinistra 3 e destra 3 che gira e apre, 50, via via dentro, bravo così, bravo, così è cattivo, vai! accenno sinistro lungo, accenno sinistro eh, sinistra 4 e destra 4 che chiude 3, 2 tempi eh, 2 tempi ora al secondo, e sinistra 4 che chiude 3, ora è 4, ora è 3, 50 destri, via andiamo, ti accompagna, guarda com'è bella, ottimo, sinistra 4, sinistra 4, in accenno destro, 100 avvista, accenno sinistro e tornante destro al muro, al muro eh, 60 sinistri, accenno sinistro e destro, 50 sinistri, destra 4, in sinistra 4 che chiude su tornante e sinistro, aspettalo eh, sinistra 4 ora, sinistra 4, via via scorri, ora tornante, eccolo qui, bravo, 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 destra 4, destra 3 lunga, apre, 30 sinistri, tornante destro, tornante, via andiamo, 30, tornante sinistro lungo 2 tempi, lungo 2 tempi, 30 eh, ora tornante sinistro lungo 2 tempi, 1, ora 2, e destra 3 lunga, 3 lunga, e accenno sinistro e destra 2, apre, apre, destra 2, apre, sinistra 3, destra 1, occhio sul bivio eh, c'è lo scalino eh, ricordatelo eh, guarda bene eh, guarda dove metti la ruota eh, lì andiamo, 50, bravo così, 50 sinistri, sinistra 3, destra 3 e sinistra 3 scende, sinistra 3 e destra 3 e sinistra 3 scende, ora guardiamo bene eh, accenno destro e sinistra 3 che gira un pelo, e destra 2 che gira e taglia, 2 che gira e taglia, sarà sporca, perciò aggancia eh, aggancia eh, non troppo eh, non troppo, bravo, aggancia ora, e sinistra 3 che gira, scende 2 tempi, 2 tempi eh, andiamo, 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 per accenno destro, per 50 sinistri, accenno destro 50, sinistra 3 meno a fine rete, alla fine della rete eh, aspettala eh, via dentro, 3 meno eh, in sinistra 4, per destra 2 al muro, 2 al muro, via scori, aspetta al muro, aspetta al muro, via ora, è 2, dentro eh, aggancia eh, destra 5 lunga che chiude 3, destra 5 lunga che chiude 3, c'è una macchina eh, dentro qui eh, dentro, 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 e sinistra 4, occhio eh, occhio eh, sinistra 4, sinistra 4, per sinistra 3 che gira, 3 che gira questa, e destra 4 apre, 40, tornante destro in fondo eh, tornante destro, aspettalo eh, ora, 50 destri dopo tornante, aggancia dentro, aggancia dentro, bravo, 50 destri, sinistra 2 che gira, 2 che gira, aspettala eh, ora, ora 2, bravo, andiamo dentro, aggancia, 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 20 destri, sinistra 3 taglia, 3 taglia interno, taglia interno, feraceno destra e destra 3 che chiude 2 sul ponte, 2 che chiude 2 sul ponte, c'è il ferro eh, c'è il ferro qui eh, ora chiude 2 lunga, dentro, 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 tutto dentro, tutto dentro, 50, sinistra 4 e destra 4 taglia molto, taglia molto qui eh, taglia molto, guardala, rallenta appelo, rallenta appelo, sinistra 4 e destra 5, destra 5, sinistra 5, 20, molta attenzione chicane eh, ingresso sinistro 3 scambi, quando le vedi eh, ora 100, ora 100, via 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 andiamo, destra e destra 5, oh eccole qui, sinistro 3 scambi eh, poi sinistra 4 e tornante sinistro poca leva, poca leva, non lo fare di leva, via andiamo, occhio al taglia eh, occhio al taglia, occhio al taglia, destra 4 lunga, apre, sinistra 4, 50, via andiamo, 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 accenno destra e 50 a vista, sinistra 4 in cima, per destra 4 lunga addossata, 4, per destra 4 lunga addossata, via scori, scorri, scorri, e sinistra 4 lunga, 4 lunga, e accenno destra lungo 20, accenno destra lungo 20, destra 4 quella lì, 4, tagliala eh, tagliala appelo, tagliala appelo, e accenno sinistra lunga che chiude 3 due tempi, chiude 3 due tempi, 1 e ora 2, 2 che chiude eh, per destra 3 meno al muro, destra 3 meno al muro, e sinistra 2 più, sporca, 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 anche la 2, guardala bene eh, la 2, 2, 2, 2, e destra 4, e sinistra 4, e destra 4, 30, accenno destra in fondo, taglia, taglia, e sinistra 3 che gira la rete, 3 che gira, 3 che gira, e destra 3, 3, destra 3, dentro eh, dentro, 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 e accenno sinistra e destra 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, e sinistra 3, 3 meno, 2 tempi, 2 tempi, andiamo, 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 in destra 2 apre, 2 apre, per sinistra 2 che gira e lunga, 2 che gira e lunga, 2 che gira e lunga, destra 3 che chiude e taglia, destra 3 che chiude e taglia, attenzione eh, guarda che è rotta, è rotta eh, guardala è rotta, è rotta, è rotta, è rotta, per sinistra 3 lunga, 3 lunga, e destra 2 media che gira, 3 lunga, 2 media che gira due che gira 2 che gira è sporco è sicuramente sporco in accenno sinistro che chiude 3 chiude 3 ora 3 accenno destro taglia e sinistra 4 che chiude 3 4 che chiude 3 rotta molto lotta dentro 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 in 4 che chiude 34 che chiude 3 taglialo è taglia il 3 è agli altri da 3 in sinistra 4 che gira chiude 34 gira chiude 3 ora chiude 3 in destra 4 che chiude 2 viscina 4 che chiude 2 viscina al muro via di haambo andiamo 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 sinistra 4 che chiude poco chiude poco in sinistra 4 che apre 4 che apre in destra 3 taglia molta attenzione 3 Bye tensione in sinistra 4 2 tempi apre 100 via andiamo 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 apre 100 tutto è in cima c'è uno sinistra destra 3 taglia molta attenzione è stretto velpi qui, via dentro, bravo, in sinistra a 4 50 sinistri sinistra a 4 e destra a 4 via andiamo, destra a 4, destra a 4 50-30, andiamo a 30 sinistra a 4 rotta, attenzione 4 rotta, in destra a 4 e sinistra a 4 e destra a 4 e sinistra a 3, molta attenzione che stica fuori, e destra a 3 taglia, 3 taglia, 100 a pista non lasciare il volante, sinistra a 4 taglia, in cima 4 taglia vera accenno destro 50 tossati scendono molto sporco il destra a 2 taglia molto sporco questo, molto molto sporco, molto sporco, attenzione, tutto dentro tutto dentro e sinistra a 3 taglia, 3 taglia, tutto interno per destra a 4 che chiude 3 rotta occhio qui, attenzione sporco, e sinistra a 4 sinistra a 4 che gira 4 che gira, guardala, è tutto interno destra a 4 che chiude 2 ora chiude 2 attenzione, aspettalo, è il 2 è sporco e taglia sporco e taglia sporco e taglia sporco e taglia dentro, dentro, dentro sinistra a 3, quella lì e destra a 3 sul ponte per sinistra a 4 lunga apre 100 a vista bravissimo grande, grande ritmo così bravo accendo sinistra e destra a 4 lunga non esagerare però eh no, 4 lunga taglia eh per sinistra a 5 sinistra a 5 50 sinistri in fondo sinistra a 3 più 3 più per destra a 4 che gira al muro gira poco eh gira poco al muro è 4 per accendo sinistro lungo dopo cartello accendo destro e sinistra a 4 alla casa 4 alla casa shikang eh attenzione shikang 3 scambi 3 scambi eh 1,2 e 1,3 andiamo inversione a sinistra inversione piano eh piano eh sinistra a 3 bravo 3 e destra a 3 che gira e apre 3 che gira e apre 50 destri gira e apre 50 destri al palo sinistra a 4 in sinistra a 3 meno 3 meno 20 sinistra a 3 sinistra a 3 3 per destra a 4 meno e sinistra a 3 3 per tornante a destra leva tornante a destra guarda che cicordi eh occhio eh 20 destra a 4 e sinistra a 3 sinistra a 3 e destra a 4 che chiude 3 4 che chiude 3 per sinistra a 4 che apre alla casa 4 che apre per destra a 3 meno che gira via andiamo gira eh gira eh via 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 gira e sinistra a 3 in destra a 3 accenno a sinistra che chiude 4 per sinistra a 3 apre 3 apre 3 apre 3 apre 50 in fondo a rail destra a 2 destra a 2 2 per sinistra a 4 che chiude 3 apre 4 che chiude 3 apre bravo andiamo 50 chiude 3 apre 50 accenno a destra a 30 destra a 4 meno che chiude 3 a rail ora è 4 meno 4 meno chiude 3 ora chiude 3 40 sinistra a 3 e sinistra a 4 e destra a 4 e sinistra a 4 sono una sequenza di 4 eh sinistra a 3 e sinistra a 4 e destra a 4 e sinistra a 4 per destra 3 che chiude 2 3 che chiude 2 andiamo eh in sinistra a 2 e destra a 4 lunga che chiude 3 alla frana lunga che chiude 3 attenzione eh non sarei troppo interno in sinistra a 3 che chiude 2 3 che chiude 2 occhio al 2 in destra a 3 meno 3 meno per destra a 3 sinistra a 2 3 e sinistra a 2 accenno a destra che chiude 4 30 ritmo eh palo destra a 2 al palo destra a 2 via scorriamo 20 dopo sinistra a 4 che chiude 3 4 che chiude 3 ora è 4 e ora è 3 40 sinistri al muro sinistra a 4 lunga e accenno a destra e tornante a sinistro sinistra a 4 lunga ok accenno a destra e tornante a sinistro oh ritmo eh dai che siamo in fondo per destra a 4 lunga 4 lunga per tornante a destra eccolo qui eh tornante sinistra a 4 lunga lunga e tornante a sinistro andiamo scorrere via tornante a sinistro via fallo bene eh per destra a 4 lunga e tornante a destro tornante a destro via scorrere scorrere e sinistra a 4 e destra a 3 a rail destra a 3 a rail e destra a 3 che gira dopo 3 che gira per sinistra 2 che gira 2 che gira molta attenzione eh 2 che gira andiamo è 2 eh per destra a 3 meno è 3 meno quasi un 2 eh per sinistra a 4 più 30 destra a 4 per destra a 4 e sinistra a 4 30 tornante a sinistro sta in là eh bravo bravo tornante eh bravo fine fine ok bravissimo bravo